Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi volevo parlarvi un pochino, dirvi la mia personale opinione su delle affermazioni che sento dire tanto ai lettori, in particolare due che ricevo sempre io e che voglio chiarire al 99,9% delle volte nascono dal nulla, semplicemente esce fuori che io leggo e queste sono le risposte. Vabbè ma per te è più facile, ma tu hai tanto tempo libero. Per quanto mi riguarda questo tipo di affermazione in generale sono stupide, perché si basano su due concetti profondamente sbagliati. Il primo è il pensiero della dote innata, il fatto che ci siano persone che solo loro sanno leggere. No, prima di tutto perché leggere un libro nel senso pratico del termine, se tu hai superato la scuola dell'infanzia vuol dire che sai leggere, quindi non vedo perché tu non possa riuscire a leggere un libro. Poi è ovvio che esistono persone predisposte, esattamente come esistono persone geneticamente predisposte per lo sport oppure geneticamente predisposte a suonare degli strumenti, magari hanno le dita più lunghe e quindi per suonare al pianoforte è meglio. Ma questo non significa che chi invece ha le dita un pochino più corte e chi magari è un po' più basso non può fare sport. Purtroppo c'è questa cosa che non entra nella testa delle persone, ma il cervello è un muscolo. Di conseguenza tutti i ragionamenti che noi facciamo per qualsiasi altro muscolo del nostro corpo li dobbiamo fare anche per il cervello. Se io voglio riuscire a correre alla maratona mi devo allenare, il fatto che io possa essere alto 2 metri e quindi avere le gambe lunghe sicuramente mi aiuterà, aumenterà la mia prestanza fisica, le mie capacità. Ma io mi devo allenare perché io posso essere alto pure 3 metri e 50, ma se poi va dalla maratona e non mi sono allenato io muoio tempo dei primi 10 metri. Una persona che ha le dita perfette per suonare il pianoforte deve suonare il pianoforte, non è che se ha 30 anni si mette lì e prova a schiacciare. Non siamo in un film della Disney in cui magicamente lui inizia a suonare la nona di Beethoven. I miei genitori mi hanno cresciuta regalandomi sempre a Natale e al compleanno almeno un libro, che io mi leggevo più che volentieri. Sono stata abituata anche crescendo da quando avevo 10 anni ad andare in biblioteca, motivo per il quale su Instagram l'ho detto un paio di volte, c'è la bibliotecaria del mio paesino che mi conosce a memoria. Ormai abbiamo confidenza perché vado lì da quando avevo 10 anni e ora ne ho 21. È passato tanto tempo, è scontato che io legga velocemente o che legga più volentieri. Ma perché? Perché mi sono allenata. Se io il tempo che ho passato in biblioteca e a casa a leggere l'avessi passato ad allenarmi, io adesso sarei probabilmente uno degli atleti migliori del mondo, mi vedresti in televisione. E non lo dico ovviamente per vantarmi o roba del genere perché non mi interessa, è una passione, se no non leggerei di principio se non mi piacesse farlo. Purtroppo a livello sociale tutto ciò che è legato al cervello viene sottovalutato, questo non vuol dire però che lo dobbiate fare voi. Dovete avere anche la maturità ed essere adulti mentalmente abbastanza da rendervi conto che quello che vedi non è tutto. Cioè voi mi vedete qui che mi siedo e mi son letta 100 pagine al giorno di un libro. Sì, ma da quando avevo 10 anni. È una bella differenza, 10 anni di allenamento e arrivare a questo punto è anche poco. Il secondo concetto logico di queste affermazioni è il fatto che quindi esistano persone che si possono permettere di leggere libri. Permettere dal punto di vista economico e dal punto di vista del tempo. Partiamo con quello economico. Voi vedete dietro di me questa libreria con comunque una non particolarmente grande ma comunque un'interessante collezione. Questa è solo una parte della mia collezione, della mia libreria perché ce l'ho anche in un'altra stanza. E vedete che è un mobile abbastanza piccolo, infatti l'ho dovuto impilare in manga perché se no non ci stavano. Partiamo dal presupposto che questi libri non sono tutti libri che ho letto. Anzi, saranno un quinto dei libri che ho letto, un quarto dei libri che ho letto forse. E non l'ho nemmeno letti tutti. Ma soprattutto l'80% mi sono arrivati o come regalo dai parenti, esclusi i miei genitori, oppure le ho comprate gratuitamente con il bonus cultura, soprattutto questi qui sotto. E se voleste sapere, tra l'altro, a butto lì, in particolare che cosa mi sono presa il bonus cultura ormai tre anni fa, vi lascio il link nella descrizione e nelle schede. Perché ho detto sta roba? Non solo per spiegare l'elefante nella stanza, come si suol dire, Ma anche per ricordarvi, perché non è la prima volta che lo dico su questo canale, ma ovviamente potreste non conoscermi, che il 90% dei libri che io ho portato su questo canale sono presi in biblioteca. Io non mi sono mai potuta permettere economicamente di comprare tutti i libri che volevo leggere. Anche perché leggo, credo, onestamente non lo so, ma credo intorno ai 20 libri all'anno. Sono tanti libri, considerato che vanno dai 10 ai 20 euro. È un costo veramente importante che io non mi posso permettere di spendere tutte le volte. Quindi quando mi si dice che per leggere è necessario avere tanti soldi, essere ricchi, avere soldi, a me viene il nervoso. Perché comunque sono io la prima che non ce li ha, non li ha mai avuti, e ho trovato altri modi per leggere. Prima di tutto esistono un sacco di fonti online. Se volete, se siete magari più interessati agli audiolibri, su YouTube ne trovate davvero tanti. In futuro poi parlerò degli audiolibri, probabilmente però. Comunque, ne trovate davvero tantissimi. Anche dello stesso libro tante versioni, quindi potete anche scegliervi voi la versione che vi piace di più. Ci sono i libri usati. Tra l'altro c'è un sito in particolare che io utilizzo, che si chiama Compro Vendo Libri, che vi lascio anche nella descrizione il mio link al mio profilo, nel caso in cui voleste vedere, perché sto vendendo un paio di libri al momento. Oltre a quello poi ci sono cose come Vinted, Facebook, eccetera, in cui potete comprare libri usati a costi davvero irrisori. Soprattutto se magari puntate di più a Facebook oppure stubito.it, nel quale riuscite magari a trovare qualcuno che vi fa la consegna a mano. In parecchie città ci sono eventi di scambio libri in cui voi vi presentate, appunto date il vostro libro e ne prendete un altro. Ci sono i mercatini dell'usato. Invece dal punto di vista gratuito comunque abbiamo i PDF online, soprattutto se il copyright è scaduto. Ma anche PDF per libri col copyright ovviamente non dovreste mai scaricarli perché è illegale. Però mi raccomando, cioè è illegale se voi non avete la copia fisica, eh. Se avete la copia fisica invece potete legalmente scaricare questo tipo di file. Poi ci sono le biblioteche. Se siete più fortunati, come nel mio caso, trovate un sistema di biblioteca, un'associazione vera e propria nella quale è totalmente gratuita. Non serve la tessera perché si utilizza quella sanitaria. In altri casi, soprattutto se magari sono più piccole o private, trovate le biblioteche che magari vogliono 5-10 euro tantum per il tesseramento, quindi lo paghi una volta sola. Ma per quanto mi riguarda 10 euro, che è un libro, per poterne leggere quanti mi pare a me, mi sembra un'ottima occasione. Ed è vero, come ho già detto, che mi fa innervosire questo discorso economico. Allo stesso tempo, però, tra quello di cui parliamo, è quello che io capisco di più moralmente, perché le persone sfigate ci sono. Cioè, io non conosco la situazione di tutta l'Italia. Non so dove esistono biblioteche, dove ci sono associazioni e dove non, onestamente. Ma so di essere fortunata perché abitando in provincia, sì, ma di Milano ci sono tantissime cose che si possono fare. In Lombardia è pieno di associazioni di questo tipo. Ovviamente le persone con cui parlo io, le persone che mi dicono queste cose, me le dicono di persona. Quindi sono gente di Milano. E nel momento in cui me lo dici a Milano, no. Stai anche un tantino zitto perché stai sparando cavolate. La cosa che proprio mi fa ribollire il sangue è la questione, appunto, di poterti permettere il tempo libero. È vero che io ho tanto tempo libero. È verissimo. Perché se no, 100 pagine di un libro di Pet Sematary, che è 423 pagine, l'ho letto in 4-5 giorni, se non avessi tempo libero non sarai capace di leggere così tanto. Ovvio. Ma la questione non è mai il quanto tempo libero hai, ma come lo sfrutti. Perché il tempo libero ce l'abbiamo tutti. Perché se no, non saremmo nemmeno qua a chiacchierare se tu non avessi tempo libero. Prendiamo per un secondo tre ore della tua giornata e della mia giornata. Ok? Mettiamo a caso che sono tre ore consecutive in cui entrambi abbiamo tempo libero, non abbiamo nessun impegno. Perché io in queste tre ore riesco a leggere e tu no? Perché io magari mi faccio un'ora a leggere e tu ti fai un'ora su Instagram. Arrivati a questo punto ci sono tantissimi studi, tantissime ricerche e tantissime interviste che parlano e vi spiegano quanto i social network siano fisicamente studiati per tenervi lì il più possibile. E per quanto noi li utilizziamo per cercare di diminuire lo stress, quindi per rilassarci, dal punto di vista emotivo e fisico un'alta esposizione ai social ci danneggia. Quindi noi siamo ancora peggio di quanto stavamo prima. Dirmi che un'ora su Instagram è meglio di un'ora su un libro perché ti rilassa di più non è vero. Se poi mi puoi dire voglio stare un'ora su Instagram perché voglio scollegare il cervello quindi invece di stare a letto e basta sto a letto col telefono a quel punto sacrosanto però bisogna avere la maturità di ammetterlo perché a 20 anni, a 30 anni o quanti anni avete non ci sarà più la mamma, il papà, la nonna, la zia chi per chi sia che arriva lì, vi mette il libro in mano e dice dai adesso mettiti e leggi. La prof delle superiori d'italiano che vi dava i libri da leggere l'estate e voi la mandavate a quel paese invece di provare a leggere quella è sempre colpa vostra perché alle superiori c'hai l'intelligenza per capire che tanto un libro male non ti può fare esattamente come adesso ti devi rendere conto che non c'è nessuno al mondo che adesso si metta lì e ti costringa a leggere quindi ti devi mettere e ti devi costringere da solo perché il cervello è un muscolo ripetiamo lo devi allenare se non inizi mai a leggere non leggerai mai ovviamente ci sono situazioni nelle quali nessuno si metterebbe a leggere ad esempio dopo essere tornati a casa dal lavoro o magari anche tipo prima di andare a dormire è una cosa che io faccio molto poco di solito leggo in altri momenti della mia giornata semplicemente perché prima di dormire mi piace ascoltare la musica e quindi ascoltare musica e leggere un libro mi riattiva il cervello invece di disattivarlo per andare a dormire ma questo non significa prima di tutto il fatto che non lo faccia io non significa che non si possa fare in generale ma secondo non sono gli unici momenti della giornata che si hanno la mattina prima di andare a lavoro magari uno dorme dieci ore beh volendo tu potresti dormirne nove svegliarti un'ora prima e allenarti fare colazione con calma guardarti una serie su Netflix e leggere un libro nessuno te lo vieta e fisicamente lo potresti fare oppure ancora meglio il consiglio più grande che do io è abituatevi a leggere sui mezzi se siete pendolari portatevi un libro ascoltatevi un audiolibro sono validi sono validissimi gli audiolibro leggere un libro semplicemente per leggerlo senza andare troppo in profondità lo potete fare anzi è quello che farete volontariamente o non quando inizierete ad allenarvi a leggere i primi libri che leggerete finirà che me li dovrete rileggere più avanti nella vostra vita perché non ci avrete capito una mazza o meglio avrete capito la trama ma poi non sai effettivamente criticare non sai dire cosa ti piace che cosa non ma va bene non è una sfida non ci stiamo sfidando non siamo al Guinness World Record e non siamo nemmeno a scuola dove ti devono interrogare dopo quindi devi studiare il libro per bene non importa se vuoi leggerti un libro io mi leggo Geronimo Stilton per rilassarmi quindi voglio dire chi se ne frega però appunto ci vuole una correttezza mentale per ammettere che non è una questione di non ho tempo oppure tu hai tanto tempo libero ma è una questione di tu non fai quelle cose che faccio io quindi magari io non guardo tanto Netflix ad esempio non guardo film per la maggior parte quindi è ovvio che quell'ora e mezza che tu ti passeresti magari la sera per guardarti un film io la passo a fare d'altro che non per forza è leggere ma comunque la passo a fare altro in generale credo che il problema principale di questo tipo di frasi nasca dal motivo per cui una persona le pensa o le dice sta cercando di giustificarsi per una cosa che di fatto non gli interessa o non gli piace fare perché se non ti interessa leggere non leggi se non ti piace leggere non è una cosa che ti ha mai stimolato è ovvio che troverai mille motivazioni per cui non leggere è ovvio che se a me non piace l'idea di mettermi a leggere un libro preferisco Instagram purtroppo nella società ci sono determinati hobby che vengono considerati hobby migliori di altri quindi quando una persona ti dice che legge tanto socialmente viene messa un gradino più in alto purtroppo che è una cavolata perché dovrei essere così speciale perché ho un hobby gli hobby non li decidiamo ok cioè sono cose a cui che ci piacciono tutti abbiamo degli hobby e delle cose che invece non ci interessano e va bene così nel momento in cui però si parla di letteratura esattamente come altri ambiti come appunto può essere l'arte eccetera la gente si sente quasi giudicata e criticata a prescindere e quindi si sente di doversi giustificare di dover dare motivazioni e allo stesso tempo alcuni pensano che sminuire quello che è l'obby di quella persona li renda meno scemi ma in realtà è tutta un'idea che hanno loro in testa se tu ti senti subito in difetto nel momento in cui io ti dico che leggo tot libri all'anno il problema è tuo nasce da te a meno che io non ti abbia messo nella situazione ma in quel caso non mi rispondi dicendomi per te è più facile mi rispondi dicendomi ma che cavolo vuoi scemo e mi tiri pomodori come giusto che sia questo tipo di affermazioni mi danno un sacco fastidio di per sé mi dà ancora più fastidio pensare al motivo che ci sia dietro perché probabilmente è un motivo più culturale e sociale che ci impone per forza di farci la lotta per cose che chi se ne frega quindi questo video finisce qui fatemi sapere che cosa ne pensate fatemi sapere se voi avete mai ricevuto questo tipo di affermazioni oppure se le avete dette come mai le avete dette e ovviamente lo dico non prendetevela male appunto non prendetevi chiamati in causa perché non è davvero l'intenzione io non sto qui a giudicarvi o a criticarvi semplicemente volevo rispondere a quello che appunto la gente di solito dice e basta esistono i casi eccezionali esistono le persone specifiche detto questo noi ci vediamo al prossimo video